Un gioco di luci che ammanta il castello aragonese, lo vedremo poi per tutto questo periodo natalizio. Giovanni Giuseppe, di Schia Pontese che emozione prova nel vedere questo gioco anche di frasi, questo spettacolo nello spettacolo? Io penso un isolano e non solo isolano, anche perché questo è venuto spontaneo, questo commento. Ieri sera provo a dire una cosa così bella, un artista così importante, accolto nel modo in cui è stato accolto, non è stato bello. Però ringraziamo la Camera di Commercio che continua ad investire su Ischia, continua a credere ad Ischia, Ischia Ponte. Ringraziamo Federalberghi che ha voluto questa installazione. Speriamo che l'insegnamento di quest'anno sia propositivo per il prossimo. Un'iniziativa che può essere radicata nel tempo, che può essere, non posso dire migliorata, non ne sono all'altezza. Ma comunque è favoloso, specialmente per i turisti, vedere questo isolotto illuminato anche in maniera così fiabbesca. Qualcuno ieri diceva che magari si potrebbe illuminare pure il mare che lambisce l'isolotto, quindi un ulteriore effetto speciale. Ma tutti sono rimasti molto contenti, almeno noi di Ischia Ponte, i riscontri sono stati tutti positivi. Eppure qualche turista, i primi turisti che stanno iniziando a venire per le vacanze di Natale, cercavano spiegazioni sull'artista. Sappiamo che è una persona ampiamente qualificata, addirittura ha lavorato per il Festival Cinematografico di Venezia. Quindi una grande sorpresa fatta appunto dalla Camera di Commercio di Napoli. Noi siamo stati ben lieti di accogliere.